Degrado ai giardini a lago. L'indignazione e l'esasperazione dei comaschi aumentano. E così, venerdì prossimo, il Comitato Cittadino Como ai Comaschi organizza un presidio itinerante che attraverserà completamente il parco e si concluderà nella zona della locomotiva, l'area più frequentemente al centro di episodi di spaccio e di violenza. Abbiamo appena depositato in questura la richiesta, spiega Salvatore Ferrara, responsabile regionale di Forza Nuova e tra i coordinatori del gruppo Como ai Comaschi. Nei giorni scorsi abbiamo condiviso online tutte le notizie riguardanti gli episodi di delinquenza ai giardini a lago, continua Ferrara, e ci siamo resi conto di quanto i comaschi siano esasperati da questa situazione. Il parco è diventato un simbolo di degrado, spaccio, microcriminalità, risse. I cittadini vogliono poter tornare a vivere quest'area verde, perciò abbiamo pensato di organizzare un presidio itinerante, conclude Ferrara. La partenza è fissata per venerdì sera alle 20.30 in Largo Borgo Nuovo attraverseremo i giardini e arriveremo fino alla zona della locomotiva.